Ciao ragazzi Dai ora mi vedrete con lo zaino e direte Oh che fai? Ma è a scuola? No, ragazzi non vado a scuola Domani parto Parto, parto Parto Mamma, bambino, parto Sì, parto Andrò... Ah sì Vado dai miei cari nonnucci Quindi sono tutto tirato, tutto per venino Tutto pettinato Tanto dormo, mi spettino di sicuro Vado dai miei nonnini Sì c'è una festa Della Madonna Non che, non della Madonna che è bella Proprio della Madonna Vado lì due o tre giorni Parto domani mattina Oddio no, non mi ci fare pensare Non mi ci fare pensare Italiano correggiuto Dicevo Parto la mattina, torno domenica mattina Quattro giorni Sì, quattro giorni che si passerò per la follia discoteche Ubriacamenti Baldoria No Passerò Carte con mio nonno Mia nonna Lavare i piatti Camminare Dormire? No Dormire? No 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 Non dormirò Lo so Di già che non dormirò Oddio no Mia madre c'è sul televisore Voglio fare questo vlog Vlog Poi vi parlavi un po' di questa situazione Un po' in generale Sul mio canale Su di me Sui mie nonni Sui mie nonni no Ma io di no Sì È un po' un periodo Che non sto facendo più nulla Di video Pieni di Capito? Sì Ho facendo tutto La sgano E lì Che non è una nuova moda Stile Arlen Shake Tipo un programma di radio DJ Che ho preso E ci faccio le supercazzo Per ora I miei amici I miei due Unici amici Che ci cascano Come rincoglioniti Suka Beh Che dirvi Che dirvi Che dirvi Ah sì Sto dicendo Non ho fatto più Più nulla Perché Non ho più il Mac 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 Macintosh Mac Mac Steve Jobs Mac Apple Niente Sì Mi Diciamo che Caputo Rotto L'assistenza È quasi un mese Che non ce l'ho E quindi Montaggio Ho Un Un Acer Che Ragazzi Due giga di RAM Che Cioè Nemmeno Il DVD Dello zecchino d'oro Legge Cioè Si impalla Accendo Benvenuto Windows V Windows Windows Vista Cioè 2008 2007 Parliamo È un portatile Quindi C'ha Sì Un Windows Accendo E Che lui Cioè Va meglio il Mac Che rotto Che lui Quando è Integro Quindi Appena ce lo Riaprò Ho già Un progetto Dove ce l'ho Progetto Un bel video So Bello 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 Qua 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 Spoiler 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 Tutto lo storyboard Per benino Tutto qui Le immagini Disegnate da me A cane Cazzum Cazzo di cane Sì È un'idea come figa L'ho pensata io Ragazzi Non puoi fare il modesto Però Sì Diciamo che Vi arriva una cosa È il primo video Che scrivo Faccio lo storyboard Le musiche Le cose ci vorrò mettere di effetti Le varie inquadrature Invece gli altri Tutti inventati sul momento Infatti si Può notare la qualità Che è un po' scadente Cioè non scadente Però diciamo la storia È banale Sì Sminchiolata Che dire Che dire Che dire Non so che dire Ragazzi Ah Vi voglio ringraziare Per gli 85 iscritti Ragazzi Che per me È un grande traguardo Sì lo so Lo dicono tutti Che anche se A un iscritto È un grande traguardo Però Per me è un grande traguardo Ragazzi Ho iniziato così Cioè ispirandomi Al grande mito Canesecco Ah Ora che Proprio stasera Mi ci sono messo Ho iniziato questo fumetto Guardate ora Non si vederà nulla Perché non è ripassato Tutto così Si chiama Kavinsky Nome Stranissimo Qui Le belle scarpe Quelle le nike Quelle truzzissime Che odio Poi 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 Che posso fare Che posso parlare Ah sì Ora Durante il viaggio Porto il cavalletto La canon Farò Due cose Che non vi dico Sennò poi Grazie Kaiser Kaiser Ve lo dico E voi Ola Lo sapevo di ciò Fate tutti T I I I I A B C D I I I Allora, ora sono con l'iPhone Mi vedete? Sì? Ciao Ciao, 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 ciao Sì, lo so Non voglio fare il figo che Sì, ho la Canon, ho lo schermo collegato Ho l'iPhone 5 Ho il faretto che mi acceca Comunque, però le povere Ora, qui sono già 7 minuti Di video con la Canon Quindi ragazzi, lo arziamoci velocemente Ci fa tipo una piccola panoramica Pre-partenza ragazzi Partita sì, allora Vi pre-annuncio che Sono un fissa solo da Roma, sì, lo so ragazzi Abbiamo sì, un giretto della camera Qui abbiamo il calendario, il relojio Targhe dell'Alaska Anche abbiamo il mobiletto che sposto ogni volta che c'ho da fare un video Guardate Questo è di un ammazzo Questo è tipo un angoletto Dipinto da me e mio padre Punto la lucina E tag, fatto video Poi abbiamo la schivania Con lo schermino, bello, bello, bello Computer, eccolo Lacer Che a me manca tanto il mio Mac Il mio Mac, il mio Mac Poi se abbiamo libri Libri, libri, libri Televisore con casse Play Libri di scuola Album di disegno Guardate Il mio disegnino Doppio di diede diede Tutta roba Roma, 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 Roma Vediamo se mi vedo allo schermo Ciao 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 Allora, per chiudere Vorrei dire una cosa importante E una cosa è che Ciao